Ultime battute in vista del Consiglio dei Ministri per il Via Libera, il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro la mezzanotte. Tra le novità che si profilano e che hanno fatto discutere molti di seno alla maggioranza, il tetto all'uso del contante che dovrebbe scendere da 3.000 a 1.000 euro. Per incentivare l'utilizzo della carta di credito e quindi contenere l'evasione, si lavora ad uno sconto fiscale su alcune spese come il parrucchiere, l'idraulico e il ristorante. Sale invece la tassa della fortuna per le vincite superiori ai 500 euro che passa al 15% e arriva al 25 per vincite oltre i 10 milioni. Resta la lotteria con gli scontrini fiscali, mentre dal prossimo anno si punta a far cassa con la digital tax, la tassa sui colossi del web. Il ventilato taglio al cuneo fiscale si risolverà a vantaggio esclusivo dei lavoratori. Era difficile ma ci siamo riusciti, l'IVA non aumenterà, avremo meno tasse sul lavoro e quindi più soldi in busta paga. Per quanto riguarda invece la sicurezza dei bebè, il contributo per l'acquisto dei seggiolini antiabbandono sarebbe di 30 euro, confermato un miliardo per il piano casa a sostegno di periferie ed affitti e dovrebbe oscillare intorno ai 2 milioni lo stanziamento per l'assegno unico familiare ma spalmato in due anni. Capitolo pensioni, per quelle tra i 1500 e 2000 euro, previsto un adeguamento all'inflazione dal 97% al 100%, invariate invece le rivalutazioni su assegni oltre i 2000 euro. Non dovrebbe invece essere modificata quota 100.